Il mio nome è Dario Mitidieri, sono un fotogiornalista italiano residente a Londra e quest'anno ho vinto il terzo premio Singles, categoria Singles, People or World Press Photo. La foto presenta una famiglia di profughi siriani nella valle del Beka in Libano. L'idea è che lo spazio vuoto, la sedia vuota nella foto rappresenta un membro della famiglia che manca. Ed è una serie di ritratti appunto fatta nella valle del Beka in Libano e ogni famiglia racconta una storia particolare e ogni foto ha degli spazi vuoti o sedie vuote che rappresentano i loro familiari che mancano a caso della guerra in Siria. L'idea è nata da un'agenzia pubblicitaria a Londra che si chiama Emensi Saci, quindi l'idea sarà un po' studiata a tavolino e sarà premiata anche un po' l'idea che ci sta dietro a questa foto. Grazie a tutti.